Benvenuti da Ambrosini, gioielleria, orologeria e laboratorio artigiano, in piazza Cavour 28R, nel cuore di Vercelli. Sono Claudia e ho il piacere di illustrarvi alcuni dei nostri articoli iniziando dalla gioielleria. Abbiamo giricollo e orecchini in oro con brillanti, a partire da 99-139 euro, per le giapponesi acque marine con prezzi assolutamente competitivi. Il nostro oro. I nostri orologi, Lotus, Festina, Ringex, Casio e Calipso, per ogni età ed esigenza. La famosa collezione Bocca d'Amo, della quale abbiamo l'esclusiva in Vercelli, conosciuta già da molti di voi per le linee Lady, Mia, Mediterranea. Gioielli in argento ed in acciaio con Swarovski a partire da soli 16 euro, le famose bamboline e tutta la collezione Uomo, per voi a prezzi veramente modici e con confezioni meravigliose. Presentiamo il nostro argento. Cornici e album per le vostre ricorrenze, vasi, decante, ricone, i rosoni di Sant'Andrea e tutto quasi per i neonati. Oggettistica per i vostri regali. Ma soprattutto non possiamo dimenticare il nostro laboratorio artigiano, proprio qui in Piazza Cavour sotto i portici. D'Ambrosini puoi realizzare i tuoi sogni in oro o in argento a tuo piacimento. I nostri servizi, riparazioni, incassature, rodiature, dorature, riparazioni orologi, sostituzioni pile, infilature collane. Ah, dimenticavo, le incisioni le faccio tutte io. Che altro dire? Vi aspetto numerosi d'Ambrosini, gioielleria, orologeria, in Piazza Cavour 28R. Ciao ciao! Grazie a tutti.